Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Casi E oggi vi andrò a spiegare come risolvere questo problema di Apex Cosa è successo? Ho scaricato Apex e finito il download non mi apriva il gioco Facendomi uscire questa finestrina qua, ci ho fatto uno screenshot Failure to create game window resolution 128x720 Ok, quindi cosa ho fatto per risolvere questo problema? Ho aperto questo, ho cercato su questo pc, windows, utenti Voi qua avrete pubblica o il nome di un vostro utente Scegliete il vostro utente e se non avete il vostro utente scegliete pubblica Quando ci troviamo qua scriviamo respawn Ok, respawn e apriamo questa prima cartella Apriamo Apex, apriamo local Voi qua dovreste avere soltanto local, se avete profile, vabbè comunque E andiamo su video configurations Ok, visto che dovrebbe aprire questa schermata E il problema sta esattamente in questi quattro punti Ok Allora Questa è stata la mia soluzione Voi dovreste avere setting no window border 0 Voi quindi questo qua lo impostate su 1 E il gioco dovrebbe partire Se così non è impostate anche questo su 1 Oppure invertiteli Insomma, provate varie combinazioni E soprattutto guardate anche la risoluzione dello schermo Che i valori non siano sballati Se no, un altro metodo Potrebbe essere disinstallare e ristallare il gioco Però prima di disinstallarlo e ristallarlo Io vi consiglio di provare questo metodo Niente, spero che il video per quanto sia stato breve vi sia piaciuto E soprattutto vi sia stato utile Se avete, se non siete riusciti a risolverlo Se siete riusciti a risolverlo Se conoscete anche altri metodi per risolvere questo problema Vi prego di scrivermelo nei commenti Così che la community si possa aiutare Io vi ringrazio per la visione E ad un prossimo video